Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Watch Dogs. Allora dobbiamo andare a fare una bella visitina al Senior Queen, il famoso fantasma che Iden Peirce stava cercando da tempo. Ora andiamo sicuramente nel suo locale, il Lucky Queen, e ci facciamo due belle risate. Speriamo bene. Questo posto ha distrutto il mio mondo, per colpa di Lucky Queen. Ho ordinato di attaccare me e la mia famiglia. Beh, ora mi dirai perché, e poi potrà morire. Bene. Molto bene. Perfetto. Speriamo... Sarò io. Dove sei? Vediamoci. Il mio lavoro è sempre stato cercare informazioni per gli altri. Più erano difficili da trovare, più guadagnavo. Non è colpa tua. Sistemerò le cose. Non ce n'è bisogno. Perdonami, Iden. Clara, ma che succede? Che cosa vuoi fare? Spia la festa e trova Queen. Benissimo. Queen, accedi alla telecamera. Clara svarà di tutto per farsi perdonare, sicuramente. Scusate, ma ve l'avevo detto, i politici sono tutti logorroici per natura. Prima che fossi sindaco, prima ancora di entrare in politica... Io e Lucky ci conoscevamo già. Da molto. Cosa so di Lucky? Bufo, lo conosco praticamente da sempre, ma solo di recente ho iniziato a chiamarlo Lucky. Dove l'ho rimasto? Poche persone sanno come me quanto è grande il cuore di Lucky. Questa città gli deve molto. E ora, grazie alle sue iniziative benefiche, il mondo intero gli è debitore. Un brindisi a Lucky Queen. Il sindaco Rushmore, gente. Grazie davvero, sindaco. Guodetevi la serata. Contribuite a una causa giusta. Persino il sindaco ha immischiato. Segui Queen e il sindaco. Allora. Vai. Basta. È chiaro. Voglio uscire da tutto. Secondo te ho tempo per le tue lagna? Sparatori. E... Quella stupidasta fallita. Ora siamo entrambi dei bersagli. Volevi diventare sindaco. Ora fai il tuo lavoro. Dirai ciò che ti ho ordinato di dire. La polizia ha ucciso Iraq. Il nostro sindaco... Sconfigge il crimine. Rosa sarebbe orgogliosa di te. Ma come osi? Dammi quel maledetto video. Finirà... Quando lo deciderò. Hai parlato. Ora esci... Dal mio hotel. Ho cose ben più importanti da gestire. Mi hai rovinato. Non ti lascerò più fare i tuoi comodi. Mi hai sentito? Lucky! Accedi alla rete dell'hotel per disattivare la security. Ok. Allora. Vediamo un po'. Dobbiamo hackerare lì, eh, ragazzi. Quindi. Qua no. Vediamo se da questa possiamo fare qualcosina. Sì. Benissimo. Qua ricopriamo il diario. Perfetto. E hackeriamo la security. Benissimo. Quanto è grande? Quello... Di quel hacker era veramente... Era veramente tosto. Mamma mia quanto mi ha fatto penare quello, eh. Quello è stato fantastico. Però ci ha detto bene, va. Allora, allora. Questo così. Questo ci dà l'input. Questo lo giriamo e siamo dentro. In guardia. Qualcuno ha fatto scattare l'allarme. È scappato l'allarme. Va a vedere che succede. Dovrei. Bene. Allora. Io direi di andare di pistola silenziata, ragazzi. Così ci divertiamo, eh. Attiva l'antifurto. Da che parte si entra? È un rinforzo nel sistema di sicurezza dell'hotel. Andate a controllare. Tadam! Quanti soldi abbiamo preso? Chi è? 10.140. Meglio di così. Questo che è? Bingo! Uno! Su. Tira sulla testa. Tira sulla testa. Tira sulla testa. Tira la testa. Ahia. Preso. Perfetto. Recopriamo anche l'audiodiario. Benissimo. No, 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 no. Pistola silenziata. Ok. Piano. Benissimo. Benissimo. Aspetta, c'è un altro qua. Perfetto. Mamma mia. Con la silenziata almeno diamo pochissimo nell'occhio. Allora, qui che dobbiamo aggerare. Perfetto. Ascensore. Piano piano arriviamo, signor Queen. Arriviamo. Ma dove sta? Sto cacchiamo la fatta che era a fa sto ascensore. Se... Oh, sta qualcuno là. Forza. Tira sulla testolina. Quel coglione. Aia. Ma non si fa... Ah. Ma parco cane, da tuo cacchio sei uscito. E stavo aspettando l'ascensore. Da dove è uscito quello? Ce ne avevo tre davanti. Mi so... Cacchio. Mi so fissato su quello là. E mi ha fregato questo sulla destra. Questo non l'ho proprio visto arrivare. A parte non l'ho proprio sentito arrivare. Poi mi ha ammazzato in tre secondi. Mi ha dato un cazzotto. Mi ha ucciso e sono morto. Mannaggia. Stava andando tanto bene. Ma ero infiltrata la grande nell'hotel. Invece no. Invece no. Ma adesso ci riproviamo e andrà sicuramente meglio. Perché stavolta non mi fregate. O più che altro rimango un po' più camperato rispetto a prima. Andiamo. Ok. Andiamo. Ce n'era uno qua. Niente. Uno qua dietro ce ne sta. Non mi ricordo male io. Su 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 su. Tira su sta testa. Perfetto. Perfetto. Buono buono. Non fate casino. Mamma mia che tripla. Tre headshot. Per me. Andiamo. Mamma mia. Ok. Ci siamo levati quasi tutti adesso. Ne sono rimasti due. Qua che ci sta? Ci possono anche hackerare qui i computer? Andiamo. Ma andiamo qua. Eccolo. Uno sta arrivando. Uno sta arrivando. Sta arrivando. Buono. Tira sulla testa. Eoh. Cacchio. Ma rifregato. Ecco da dove viene. Esce dall'ascensore. Porcaccia la tua miseria. Porcaccia. Ecco perché. Mo' ero danneggiato però. Eh. Mannaggia. Ero danneggiato. Ecco da dove esce. Dall'ascensore. Mannaggia a te. Mannaggia. Mannaggia a te. Ma perché pure io mi sono andato a un pelacà con quei due? Che poi che cacchio. Nel senso se non mi faccio vedere manco mi vedevano. Era da un attimo da camperare. Però io perché mi piace troppo andare all'attacco. Ma che ce posso fare? Che ce posso fare? Sarà una malattia. Ma che cacchio ne so. Perché mi piace andare all'attacco. Non ci riesca a aspettare a stare fermo in un posto. Ok. Ora che sappiamo. Il tutto. Sono cavoli vostri. Ok. Andiamo. Si entra. C'è uno qui. Andiamo. Preso. 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 Mamma mia che spettacolo. Questa volta non mi freghi. Faccio tutto il giro. Perfetto. Quanti ne sono rimasti? Sembra nessuno. Eccolo. Trovatelo. Quello stronzo non è lontano. Ehi. Ok. Andiamo. Ne è rimasto uno solo. Ma adesso non mi frega questo qua. Adesso non mi freghi. Ti sto aspettando. A parte qua che devo prendere. È pieno. Stanno arrivando due però. C'è la miseria. Devo stare attento più a questo però. Su. Su. Stavolta non mi freghi. Voglio prendere un headshot. Ahia ce l'ho là. Ahia ce l'ho là. Perfetto. Cacchio. Cacchio. Perfetto. Mamma mia. Adesso non mi freghi. Andiamo. Si sale eh. O si scende. E' un po'. Da che parte si va? Stai attento. Ha raddoppiato la scorta. Ti sta aspettando. Bene. Non prendi sul serio gli avvertimenti. Sei sveglio ma non capisci quando perdi, vero? Hai ordinato di sparare. Mia nipote è morta in quell'auto. Aveva solo sei anni. Ah. Per questo hai fatto tanto casino. Devi scusarmi. Un sacco di gente viene da me per dei problemucci. Non è facile ricordarsi sempre di tutto. Ah ah ah. Benissimo. Ok. Molto bene. Allora ragazzi. Ci fermiamo qui. E nel prossimo video ci sarà veramente da ridere. Anzi mi sa che devo prendere proprio il fucile d'assalto. Ci vediamo nel prossimo video con Watch Dogs qui nell'hotel del Signor Queen. Al prossimo video.